allora io ora vorrei collegarmi un attimo con roma voglio collegarmi con roma per un motivo ben preciso andiamo se se riesco a collegarmi con roma ci siamo allora andiamo in diretta in diretta perché con tutta la gente che conosco con tutta la gente che potrei e collegarmi mi collego con roma mi collego con roma perché prima di tutto mi collego con un amico una persona che definisco un amico una persona per bene una di quelle persone che oggi è in pensione una di quelle persone che facevano bene il loro mestiere una di quelle persone che quando a scandici c'era lui a scandici quando c'era lui non volava una foglia e vorrei esordire prima di mandarlo in diretta prima di annunciarlo con questa frase ennesima fra ennesima notizia che è uscita sui giornali a scandici guardando le notizie odienne di scandici troviamo furti a raffica con cittadini esasperati lasciati soli a doversi difendere di un crescente faroeste spaccio di droga ai minori con cani antidroga a presidiare le scuole emergenze sociali che danno luogo anche a emergenze sanitarie per una intera zona lasciate ingestite per tre anni alla faccia della cittadina tranquilla la faccia dell'alta qualità di vita presente secondo il sindaco di scandici allora al telefono abbiamo l'ex maresciallo comandante di via di rossi della casella via di rossi gianna attasio gianna attasio buongiorno buongiorno carissimo però ti devo rimproverare di una cosa dimmi noi non andiamo mai in pensione in congeto ah scusa scusa questo lo sapevo io sono luogotenente in congeto ecco a differenza di quelli in servizio che prendono la busta paga noi prendiamo la pensione ecco però gianna attasio allora io mi ricordo perché mi capita ormai spessissimo in questi giorni di ricevere email telefonate gente che mi fermano mi dicano gheri ma ti ricordi quando c'era il grande gianna attasio addirittura lo chiamavi a mezzanotte alle due alle tre il pomeriggio era sempre presente a scandici mi ricordo che tu fosti chiamato perché in quel periodo lì c'era il coprifuoco se ti ricordi c'era un gruppo di ragazzi che facevano che facevano gli spavaldi dei tossici che picchiavano gli anziani ne combinavano di colte di crude e te con la tua gippe prendevi o in ogni luogo anche nei posti più impensabili c'era gianna attasio mi chiamavano h24 se ricordi h24 una delle cose più belle me la fai ricordare una delle cose più belle che mi destina soddisfazione immensa è che una volta c'era in via rialdoli c'era in corso la festa dell'unità la festa dell'unità io mi ricordo ti chiamai mi assumo la responsabilità di quello che dico è ti chiamai e ti dissi gianna attasio ma la legge la regola non è uguale per tutti io quando faccio le serate lì al bartolozzi a cinque a mezzanotte chiudo e l'impianto qui sono e mezzanotte e mezzo un quarto all'una musica tutta birra ma la legge non è uguale per tutti che mi ricordo prendesti la la gippe e andassi a sospendere la musica allora chiamai il responsabile perché con la diplomazia a volte si ottiene tanto e gli dissi guardi c'è un orario previsto dalla legge disturbo alla guida pubblica sono luna domani mattina tutta la gente del vicinato si deve alzare deve andare a lavorare per cortesia o abbassi il tono della musica non amplificato oppure la smettete subito e quel signore con la sua spavalderia perché in certi posti chi conosce gli amici degli amici mi fece il nome di qualcuno dicendo lui ha autorizzato e io dissi è quel lui non può autorizzare ad infrangere la legge quindi tra poco dieci minuti massimo il tempo di sistemare gli strumenti è ora che sarebbe finita ma solo che diede tanto fastidio questo mio intervento per salvaguardare il sonno della gente perché era una festa di un partito era una festa dell'unità ma ricordo benissimo e dopo che questo signore a bocca amara disse anche per microfono dobbiamo chiudere perché il comandante dei carabinieri ci ha imposto no è la legge che te lo imponeva e la mattina dopo non ti dico quello che è successo è successo in comune perché io sono ho saputo che si è stato richiamato non so chi era l'allora sindaco ma vieni per favore aspetta la mattina dopo il sindaco non l'ho sentito proprio perché se mi si permetteva di chiamarmi come sono sono fatto io anche oggi lo avrei mandato a quel paese io sono stato chiamato da molte persone che portavano la mia stessa divisa sopra di me volevano sapere i particolari ma siccome quei particolari allora non interessavano ma interessavano a me eventualmente c'era qualche atto illegale che io avessi fatto mi dovevano denunciare ma siccome a gente parla e nessuno ha paura nessuno ha il coraggio di mettere nero su bianco è finita là capito però io ho fatto applicare la legge come facevo sempre senza guardare in faccia a nessuno però però caro caro gianattasio a scandici ti volevano bene tutti io me lo ricordo benissimo guarda quando uscivo la mattina a piedi con la mia argentina sotto braccio a piedi perché io a piedi pure oggi qua non li vedo mi facevi giro della piazza del mercato tutti i commercianti venivo a sapere tante cose c'erano persone che mi davano anche i numeri di targa di macchine sospette che avevano visto la notte due tre giorni che non mi vedevano chiamavano in caserma ma sta in ferie sta male la prevenzione stare in mezzo alla gente questo è il primo obiettivo di un comandante di carabinieri conoscere a me la notte mi chiamavano le persone senza chiamare i 112 sta succedendo ma non mi chiamavano in caserma sul mio cellulare capito ma io mi ricordo addirittura è che ti chiamavano persone che hai dovuto addirittura riappacificare anche molte coppie che 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 seminavano di brutto è logico lo stalking il femminicidio oggi è un problema dovuto allo stalking perché quando ricevi vieni a sapere delle cose e chiami o la donna si rivolge a te piangendo gli dici guarda che mettiamo benzina sul fuoco però io mettevo il naso in mezzo ai loro problemi prima di far mettere nero su bianco perché quando hai messo nero su bianco certe volte si rischia di mettere benzina sul fuoco il giudice fino a quando riceve la notizia di reato la devono registrare poi viene assegnato al giudice fino a quando arriva sulla scrivania del giudice competente passano quattro mesi e nel frattempo oggi però oggi però caro giannattati io mi ricordo che te avevi la tua piccola sede in via di rossi via di rossi a scandici come sai invece ora c'è proprio la compagnia grande tutto e tutto il resto ecco come mai te pochi con quella piccola struttura sapevate controllare scandici in un modo esemplare e quello che invece oggi non succede guarda il problema è uno la stazione dei carabinieri di via di rossi eravamo in 15 e controllavamo il territorio con la nuova la compagnia come è formata c'è un nucleo comando c'è un nucleo operativo che fa le indagini c'è un nucleo radiomobile che c'è tutto il territorio della compagnia e c'è la stazione capoluogo quindi ogni comando c'ha le sue competenze allora se io mi potevo permettere a quell'epoca di fare la pattuglia 06 6 12 12 18 18 24 impiegava 8 uomini al giorno della mia stazione gli altri facevano il giorno libero che gli spettava per legge io rimanevo in ufficio e se tu ricordi anche in ufficio si correva si chiudeva la caserma quando c'era qualcosa di grave perché la pattuglia stava lontano l'organizzazione dell'arma è questa capito però ecco come mai secondo te sono passati i tempi è cambiata la tecnologia sono cambiate le attrezzature è aumentato il personale come mai oggi oggi non vent'anni fa oggi su tutti i giornali furti sulle auto in sosta è un assedio è un problema di tutta l'italia di tutta l'italia però io invece ho voluto coinvolgere scandici perché te io sono convinto che se te eri a scandici te oggi le cose sarebbero andate migliori no assolutamente perché io me ne sono voluto andare da scandici dalla compagnia perché logicamente la compagnia c'è un comandante di compagnia ci sono dei reparti adibiti a tanti compiti non sei più padrone di fare quello che puoi fare capito perché personale dopo fu ridotto la stazione di scandici in via dei rossi era unica comandavo io e facevo quello che ritenevo opportuno di fare io mi ricordo il grande appuntato del quale non faccio il nome che tu hai capito ogni giorno pur se stava per i fatti suoi in borghese mi portava un arresto per droga mi portava il rapinatore lo scippatore ma perché c'era autonomia ed eravamo tanti a fare solo quello prevenzione e repressione quindi quando succedeva qualcosa si correva tutti qui logicamente il comando di compagnia ha un'altra articolazione io so solo e lo posso dire non commetto nessun reato se qualcuno è in ascolto in un anno ho fatto 170 arresti con tutti i miei ragazzi perché senza i ragazzi tu non sei nessuno capito la barca se non ci sono i rematori chi porta il timone non è nulla ci sono ci fu fui cazziato da qualcuno perché facevo troppo arresti perché mettevo quando usciva sulla nazione che i carabinieri di scandici in una sola pagina avevano fatto due tre operazioni di servizio era mettere in cattiva luce l'amministrazione per la città però però e gianattasio perdonami lo so che sei una brava persona e tutto il resto però e dobbiamo dare a cesare quel che è di cesare perché non so quante persone facevano o fanno quello che facevi te perché io io scusami se ti interrompo qui oggi noi dobbiamo pensare solo una cosa stiamo al servizio della gente bravo e questo è importante però differenza di tanti a livello politico che di noi se ne sbattono io ieri ho incontrato dopo otto anni un mio carabiniere con mia moglie mi abbracciato mi abbracciato a un certo momento mi stanno mi abbracciato sì ci hanno dato 80 euro però ci hanno dimezzato un sacco di ore notturne straordinarie siamo trattati a pesce in faccia capito ecco a proposito di questo che cosa ne pensi secondo te queste nuove regole di questi nuovi governi stanno dando una mano all'arma dei carabinieri le forze dell'ordine caro vai a vedere il grande mio collega che conosco quello che sta facendo lo sciopero della fame non lo calcola nessuno l'abbiamo intervistato otto volte in diretta a noi un grande regista ha girato un lungometraggio sulle forze dell'ordine h24 poliziotti allo specchio ha vinto un attestato di merito al festival internazionale del cinema di lecce hanno paura di farlo vedere i media capito è bellissimo però hanno paura sì io ho visto ho seguito noi l'abbiamo mandato in diretta diverse volte è stato addirittura ricoverato perché dopo tutti i giorni si è sentito male sicché insomma sappiamo benissimo di chi stiamo parlando perché ci sembrava doveroso dagli spazi ha raccontato delle cose anche abbastanza allarmanti insomma di come viene trattata come vengono trattate secondo te come mai questo questa indifferenza verso le forze dell'ordine nonostante sia aumentata la criminalità guarda io ti dico una cosa ti posso dire una cosa c'è stato un periodo io comandavo una stazione sul litorale romano stavamo senza carta per fare le denunce per prendere le denunce lo sai come ho costretto a farmi mandare la carta ho chiuso la caserma a me mi dicevano fatti dare la risma di carta dalla banca dalla posta ma io mi vergognavo ho chiuso la caserma per tre giorni mi è arrivata un furgone viene di carta oggi camminiamo camminano con le macchine scassate oggi ci stanno quello è stato denunciato questo poveretto perché ha detto in diretta che i giubbotti antiproiettili erano scaduti ma dove siamo arrivati io mi ricordo quando il signor d'alema ci propose 16 mila lire di aumento a certo momento qui non si tratta di soldi si tratta di non risparmiare a benzina si tratta di avere le gomme buone si tratta di avere le macchine andiamo a fare le contravenzioni alle macchine scazzate noi ci fanno girare con le macchine rotte ma è vergognoso dai però però gianna taser secondo te siccome scandici come ti ho letto l'articolo uscito ieri e ormai il secondo e la popolazione è diventato un faro oeste perché quando c'era gianna tasio il faro oeste era sparito e oggi invece il faro oeste è ritornato pochi soli e autonomi oggi c'è un comando di compagnia che è articolato in un altro modo la pattuglietta della stazione carabinieri la capoluogo quella sotto in fondo a sinistra non può coprire magari con la forza che c'ha 24 h 24 c'è la radiomobile il pronto intervento una macchina che gira per tutti i territori non siamo mica a roma milano o a firenze capito io tu non sai che quando è nata la compagnia era progettato il commissariato questa cara scandici da sesto fiorentino poi è nata la compagnia che vuoi un bimaior minor cessa a napoli si dice attacco giucci dove vuole il padrone però comunque vada però comunque vada insomma mi sembrava davvero da parte che mi sono arrivati due o tre domande anzi poi una domanda siccome la ritengo abbastanza importante ti richiamerò in seconda sede in seconda una seconda occasione perché c'è una persona che mi fa una domanda che non te la voglio leggere ora in diretta in questo momento perché mi sembra abbastanza complicata ti chiamerò poi in privato e poi ti richiesti qualche problema no 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 è una domanda che ne voglio parlare prima personalmente con te in privato e poi ne riparleremo in diretta perché sentirti in diretta a me fa sempre piacere è logico come fa piacere come fa piacere a tutti gli scandicesi perché ripeto ripeto proprio io ieri l'altro si ieri l'altro parlavo con una signora che conosci una bella donna che mi diceva gheri ti ricordi quando c'era giannattasio ma che c'era tutto questo sudiciume questo letamaio qui gente che vendono a tutte le parti marciapiedi pieni di tutto quando c'era giannattasio quando la stazione carabinieri di via dei rossi era articolata in un altro modo qui si tratta di competenze capito si le competenze sono d'accordo ma c'è io arrivavo fino a badia da badia poi arrivavamo lì al ponte della vittoria lì a non mi ricordo le tale bagnesi vicino a torre galli capito si si io quando correvo a torre galli che competenza di firenze facevo qualcosa qualcuno mi cazzava pure che non era mio territorio noi ci dobbiamo mantenere anche i regolamenti oh senti io ti posso raccontare una cosa due domeniche fa sono ritornato nella mia prima stazione carabinieri in umbria dove sono stato la gente mi ha voluto rivedere dopo 33 anni c'è chi si piglia le sue responsabilità io un ragazzo che stava male il tempo che correva l'ambulanza e portava all'ospedale ci ho pensato una seconda volta l'ho caricato dentro la mia macchina l'ho portato l'ho salvato da un infarto 18 anni la mattina dopo mi volevano punire perché non è previsto che ti metti la macchina un cittadino nella macchina di servizio mi hanno fatto una domanda se ti moriva erano capoli miei però la mamma di questo ragazzo è venuta ad abbracciarmi perché il cardiologo ha detto che se non lo avresti fatto io il figlio di 18 anni era morto e a me dei superiori non me ne fregava niente Gianattasio questa è la motivazione di questa telefonata che io ho voluto fare perché oggi le regole vanno rispettate ma delle volte ci vuole anche un po' di buonsenso c'è la bilancia c'è la bilancia se a me mi dicevano sulla destra c'è il codice penale sulla sinistra c'è la mano sul cuore e comunque vale insomma se a scandici quanti anni è che manchi a scandici io manco da scandici dal 2002 no dal 2000 che me ne andai a gavinana poi andai alla dia e poi dalla dia sono venuto sull'idorale romano però comunque vale insomma fa piacere sapere come sapere che ci sono uomini donne e bottegai negozianti perché siccome quello che sta succedendo in questi ultimi tempi a scandici come ormai tu quasi tutti i giornali la nazione riporta è diventato un faro oeste io sento persone che continuamente mi fermano e mi dicono se c'era Gianattasio senti io tu sai io ho lasciato due figlie là ho lasciato il cuore oltre alle figlie nipoti con la gente quando vengo a trovarle andare in giro a prendersi caffè e vedere la gente che ti abbraccia ti saluta ancora è un onore perché chi semina bene raccoglie e poi soprattutto sei una persona io una cosa che io mi ricordo benissimo che te sei una persona che hai fatto rispettare le regole a tutti non esistevano amici non esistevano amici degli amici bravo bravo questa è la frase importante se uno si comportava male gli amici degli amici io quella della festa e l'unità mi ricordo che mi facessi godere come una bestia perché mi avevi fatto presente una cosa e io alla richiesta di un cittadino che mi dice guardi si sta imprengendo la legge non posso dire dai lascia stare ma è vero Gianattasio che quando l'arma dei carabinieri è troppo operativa in una città l'amministrazione comunale si incazza come dire ma qui si va a finire sui giornali ma ti sto dicendo sono stato rimproverato che uscivano troppe notizie di cronaca nera sulla pagina dei scantici e come c'è c'è gente che fanno il loro lavoro e qualcuno richiama le persone ragazzi ma a che livelli siamo arrivati dai va bene giri va bene Gianattasio sentiamo perdere e poi un avviso mio se me lo consente se qualcuno che ha ascoltato in divisa in borghese si è sentito leso assolutamente no perché per me l'arma dei carabinieri guai a chi me la tocca e chi mi tocca le forze dell'ordine perché cambia l'uniforme ma il fine è unico servire la gente e ci devono mettere in condizione di servire la gente comunque ti posso dire una cosa a proposito di questo sicuramente qualcuno con la divisa e dirà dentro di sé senti quel figlio di una mignotta del gheri è andato a intervistare Gianattasio guarda guido io ho fatto un libro che da cinque anni sta facendo scalpore l'hanno studiato perché non mi hanno denunciato io esalto la figura del maresciallo del paese e racconto pure le prepotenze di qualche superiore non mi sono mai piegato a nessuno quando sto nel giusto perché ci sono tanti colleghi che quando vanno in concetto non in pensione attaccano la divisa ritornano al paesetto e non so perché io non sono ritornato dal paesetto sono rimasto dove stavo allora io ora vorrei collegarmi un attimo con roma voglio collegarmi con roma per un motivo ben preciso andiamo se se riesco a collegarmi con roma ci siamo allora andiamo in diretta in diretta perché con tutta la gente che conosco con tutta la gente che potrei e collegarmi mi collego con roma mi collego con roma perché prima di tutto mi collego con un amico una persona che definisco un amico una persona per bene una di quelle persone che oggi è in pensione una di quelle persone che facevano bene il loro mestiere una di quelle persone che quando a scandici c'era lui a scandici quando c'era lui non volava una foglia e vorrei esordire prima di mandarlo in diretta prima di annunciarlo con questa frase ennesima fra ennesima notizia che è uscita sui giornali a scandici guardando le notizie odierne di scandici troviamo furti a raffica con cittadini esasperati lasciati soli a doversi difendere di un crescente faroeste spaccio di droga ai minori con cani antidroga a presidiare le scuole emergenze sociali che danno luogo anche a emergenze sanitarie per una intera zona lasciate e ingestite per tre anni alla faccia della cittadina tranquilla la faccia dell'alta qualità di vita presente secondo il sindaco di scandici allora al telefono abbiamo l'ex maresciallo comandante di via di rossi della chiesa via di rossi giannattasio giannattasio buongiorno buongiorno carissimo però ti devo rimproverare di una cosa dimmi noi non andiamo mai in pensione in congeto ah scusa scusa questo lo sapevo io sono un luogotenente in congeto a differenza di quelli in servizio che prendono la busta paga noi prendiamo la pensione ecco però giannattasio allora io mi ricordo perché mi capita ormai spessissimo in questi giorni di ricevere email telefonate gente che mi fermano mi dicano gheri ma ti ricordi quando c'era il grande giannattasio addirittura lo chiamavi a mezzanotte alle due alle tre il pomeriggio era sempre presente a scandici mi ricordo che tu fosti chiamato perché in quel periodo lì c'era il coprifuoco se ti ricordi c'era un gruppo di ragazzi che facevano che facevano gli spavaldi dei tossici che picchiavano gli anziani ne combinavano di corte di crude e te con la tua gippe prendevi o in ogni luogo anche nei posti più impensabili c'era giannattasio mi chiamavano h 24 se ricordi h 24 una delle cose più belle me la fai ricordare una delle cose più belle che mi desti una soddisfazione immensa è che una volta c'era in via e rialdoli c'era in corso la festa dell'unità e la festa dell'unità io mi ricordo ti chiamai mi assumo la responsabilità di quello che dico è ti chiamai e ti dissi giannattasio ma la legge la regola non è uguale per tutti io quando faccio le serate lì al baltolozzi a cinque a mezzanotte chiudo l'impianto qui sono mezzanotte e mezzo un quarto all'una musica tutta birra ma la legge non è uguale per tutti che mi ricordo prendesti la la gippe e andassi a sospendere la musica allora chiamai il responsabile perché con la diplomazia a volte si ottiene tanto e gli dissi guardi c'è un orario previsto dalla legge disturbo alla guida pubblica sono l'una domani mattina tutta la gente del vicinato si deve alzare deve andare a lavorare per cortesia o abbassi il tono della musica non amplificato oppure la smettete subito e quel signore con la sua spavalderia perché in certi posti chi conosce gli amici degli amici mi fece il nome di qualcuno dicendo lui ha autorizzato e io dissi quel lui non può autorizzare ad infrangere la legge quindi tra poco dieci minuti massimo il tempo di sistemare gli strumenti è ora che sarebbe finita ma solo che diede tanto fastidio questo mio intervento per salvaguardare il sonno della gente perché era una festa di un partito era la festa dell'unità me lo ricordo benissimo e dopo che questo signore a bocca amara disse anche per microfono dobbiamo chiudere perché il comandante dei carabinieri ci ha imposto no è la legge che lo imponeva e la mattina dopo non ti dico quello che è successo è successo in comune perché io ho saputo che si è stato richiamato non so chi era l'allora sindaco ma veri per favore aspetta la mattina dopo il sindaco non l'ho sentito proprio perché se mi si permetteva di chiamarmi come sono sono fatto io anche oggi lo avrei mandato a quel paese io sono stato chiamato da molte persone che portavano la mia stessa divisa sopra di me volevano sapere i particolari ma siccome quei particolari allora non interessavano ma interessavano a me eventualmente c'era qualche atto illegale che io avessi fatto mi dovevano denunciare ma siccome la gente parla e nessuno ha paura nessuno ha il coraggio di mettere nero su bianco è finita là capito però io ho fatto applicare la legge come facevo sempre senza guardare in faccia a nessuno però però caro caro gianattasio a scandicci ti volevano bene tutti io non ricordo benissimo guarda quando uscivo la mattina a piedi con la mia argentina sotto il suo braccio a piedi perché io a piedi pure oggi qua non li vedo mi facevi il giro della piazza del mercato tutti i commercianti venivo a sapere tante cose c'erano persone che mi davano anche i numeri di targa di macchine sospette che avevano visto la notte due tre giorni che non mi vedevano chiamavano in caserma ma che sta in ferie sta male la prevenzione stare in mezzo alla gente questo è il primo obiettivo di un comandante di carabinieri conoscere a me la notte mi chiamavano le persone senza chiamare i 112 sta succedendo ma non mi chiamavano in caserma sul mio cellulare capito ma io mi ricordo addirittura che ti chiamavano persone te hai dovuto addirittura riappacificare anche molte coppie che 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 semenavano di brutto è logico lo stalking il femminicidio oggi è un problema dovuto allo stalking perché quando ricevi vieni a sapere delle cose e chiami o la donna ti si rivolge a te piangendo gli dici guarda che mettiamo benzina sul fuoco però io mettevo il naso in mezzo ai loro problemi prima di far mettere nero su bianco perché quando hai messo nero su bianco certe volte si rischia di mettere benzina sul fuoco il giudice fino a quando riceve la notizia di reato la devono registrare poi viene assegnato al giudice fino a quando arriva sulla scrivania del giudice competente passano quattro mesi e nel frattempo oggi però oggi però caro giannattati io mi ricordo che te avevi il la tua piccola sede in via di rossi via di rossi a scandici come sai invece ora c'è proprio la compagnia grande tutto e tutto il resto ecco come mai te pochi con quella piccola struttura sapevate controllare scandici in un modo esemplare e quello che invece oggi non succede guarda il problema è uno la stazione dei carabinieri di via di rossi eravamo in 15 e controllavamo il territorio con la compagnia come è formata c'è un nucleo comando c'è un nucleo operativo che fa le indagini c'è un nucleo radiomobile che ha tutto il territorio della compagnia e c'è la stazione capoluogo quindi ogni comando ha le sue competenze allora se io mi potevo permettere a quell'epoca di fare la pattuglia 06 6 12 12 18 18 24 impiegava 8 uomini al giorno della mia stazione gli altri che facevano il giorno libero che rispettava per legge io rimanevo in ufficio e se tu ricordi anche in ufficio si correva si chiudeva la caserma quando c'era qualcosa di grave perché la pattuglia stava lontano l'organizzazione dell'arma è questa capito però ecco come mai secondo te sono passati i tempi è cambiata la tecnologia sono cambiate le attrezzature è aumentato il personale come mai oggi oggi non vent'anni fa oggi su tutti i giornali furti sulle auto in sosta è un assedio è un problema di tutta l'italia di tutta l'italia di tutta l'italia però io invece ho voluto coinvolgere scandici perché te io sono convinto che se te eri a scandici te oggi le cose sarebbero andate migliori no assolutamente perché io me ne sono voluto andare da scandici dalla compagnia perché logicamente la compagnia c'è un comandante di compagnia ci sono dei reparti adibiti a tanti compiti non sei più padrone di fare quello che puoi fare capito perché personale dopo fu ridotto la stazione di scandici in via dei rossi era unica comandavo io e facevo quello che ritenevo opportuno di fare io mi ricordo il grande appuntato del quale non faccio il nome che tu hai capito chi sì sì ho capito benissimo ogni giorno pur se stava per i fatti suoi in borghese mi portava un arresto per droga mi portavi il rapinatore lo scippatore capito ma perché c'era autonomia ed eravamo tanti a fare solo quello prevenzione e repressione quindi quando succedeva qualcosa si correva tutti logicamente il comando di compagnia c'è un'altra articolazione io so solo e lo posso dire non commetto nessun reato se qualcuno è in ascolto in un anno ho fatto 170 arresti con tutti i miei ragazzi perché senza i ragazzi tu non sei nessuno capito la barca se non ci sono i rematori chi porta il timone non è nulla ci sono ci sono fui cazziato da qualcuno perché facevo troppo arresti perché mettevo quando usciva sulla nazione che i carabinieri di scandicci in una sola pagina avevano fatto due tre operazioni di servizio era mettere in cattiva luce l'amministrazione per la città però però e gianattasio perdonami lo so che sei una brava persona e tutto il resto però e dobbiamo dare a cesare quel che è di cesare perché non so quante persone facevano o fanno quello che facevi te perché io scusami se ti interrompo qui oggi noi dobbiamo pensare solo una cosa stiamo al servizio della gente bravo e questo è importante però a differenza di tanti a livello politico che di noi se ne sbattono io ieri ho incontrato dopo otto anni un mio carabiniere con mia moglie mi ha abbracciato mi ha baciato a un certo momento mi stanno suonando a casa a un certo momento mi ha detto sì ci hanno dato 80 euro però ci hanno dimezzato un sacco di ore notturne straordinari siamo trattati a pesce in faccia capito ecco a proposito di questo che cosa ne pensi secondo te queste nuove regole di questi nuovi governi stanno dando una mano all'arma dei carabinieri oppure alle forze dell'ordine caro vai a vedere il grande mio collega che conosco quello che sta facendo lo sciopero della fame non lo calcola nessuno l'abbiamo intervistato otto volte in diretta a noi un grande regista ha girato un lungometraggio sulle forze dell'ordine h24 poliziotti allo specchio ha vinto un attestato di merito al festival internazionale del cinema di lecce hanno paura di farlo vedere i media capito è bellissimo però hanno paura sì io ho visto ho seguito noi abbiamo mandato in diretta diverse volte è stato addirittura ricoverato perché dopo tutti i giorni si è sentito male sicché insomma sappiamo benissimo di chi stiamo parlando perché ci sembrava doveroso dagli spazi ha raccontato delle cose anche abbastanza allarmanti insomma di come viene trattata come vengono trattate secondo te come mai questo questa indifferenza verso le forze dell'ordine nonostante sia aumentata la criminalità guarda io ti dico una cosa ti posso dire una cosa c'è stato un periodo io comandavo una stazione sul litorale romano stavamo senza carta per fare le denunce per prendere le denunce lo sai come ho costretto a farmi mandare la carta ho chiuso la caserma a me mi dicevano fatti dare la risma di carta dalla banca dalla posta ma io mi vergognavo ho chiuso la caserma per tre giorni mi è arrivata un furgone viene di carta oggi camminiamo camminano con le macchine scassate oggi ci stanno quello è stato denunciato questo poveretto perché ha detto in diretta che i giubbotti antiproiettili erano scaduti ma dove siamo arrivati io mi ricordo quando il signor D'Alema ci propose 16 mila lire di aumento a un certo momento qui non si tratta di soldi si tratta di non risparmiare benzina si tratta di avere le gomme buone si tratta di avere le macchine andiamo a fare le controvenzioni alle macchine scazzate e noi ci fanno girare con le macchine rotte ma è vergognoso dai però però gianna tasio secondo te siccome scandici come ti ho letto l'articolo uscito ieri e ormai il secondo e la popolazione è diventato un far west perché quando c'era gianna tasio il far west era sparito e oggi invece il far west è ritornato pochi soli e autonomi oggi c'è un comando di compagnia che è articolato in un altro modo la pattuglietta della stazione carabinieri la capoluogo quella sotto in fondo a sinistra non può coprire magari con la forza che c'ha 24 h 24 c'è la radiomobile il pronto intervento una macchina che gira per tutti i territori non siamo mica a roma a milano o a firenze capito io tu non sai che quando è nata la compagnia era progettato il commissariato questa cara scandici da sesto fiorentino poi è nata la compagnia e che vuoi un bimaior minor cessa a napoli si dice attacco giucci dove vuole il padrone vabbè però però comunque vada però comunque vada insomma mi sembrava da parte che mi sono arrivati due o tre domande anzi poi una domanda siccome la ritengo abbastanza importante ti richiamerò in seconda sede in seconda una seconda occasione perché c'è una persona che mi fa una domanda che non te la voglio leggere ora in diretta in questo momento perché mi sembra abbastanza complicata ti chiamerò poi in privato e poi ti richiede qualche problema no 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 è una domanda che ne voglio parlare prima personalmente con te in privato e poi ne riparleremo in diretta perché sentirti in diretta a me fa sempre piacere è logico come fa piacere come fa piacere a a tutti gli scandicesi perché ripeto ripeto proprio ieri l'altro sì ieri l'altro parlavo con una signora che conosci una bella donna che mi diceva gheri ti ricordi quando c'era gianna tasio ma che c'era tutto questo sudiciume questo letamaio qui gente che vendono a tutte le parti marciapiedi ieri non quando c'era gianna tasio quando la stazione carabinieri di via dei rossi era articolata in un altro modo qui si tratta di competenze capito sì le competenze sono d'accordo ma c'è anche la volontà io arrivavo fino a badia la badia poi arrivavamo lì al ponte della vittoria lì a non mi ricordo alle bagnesi vicino a torre galli capito sì sì io quando correvo a torre galli che competenza di firenze facevo qualcosa qualcuno mi cazziava pure che non era mio territorio noi ci dobbiamo attenere anche ai regolamenti oh senti io ti posso raccontare una cosa è due domeniche fa sono ritornato nella mia prima stazione carabinieri in umbria dove sono stato la gente mi ha voluto rivedere dopo 33 anni c'è chi si piglia le sue responsabilità io un ragazzo che stava male il tempo che correva l'ambulanza portava all'ospedale ci ho pensato una seconda volta l'ho caricato dentro la mia macchina l'ho portato l'ho salvato da un infarto 18 anni la mattina dopo mi volevano punire perché non è previsto che ti metti la macchina di un cittadino nella macchina di servizio mi hanno fatto una domanda se ti moriva erano cavoli miei però la mamma di questo ragazzo è venuta ad abbracciarmi perché il cardiologo ha detto che se non lo avresti fatto io il figlio 18 anni era morto e a me dei superiore non me ne fregava niente questa è la motivazione di questa telefonata che io ho voluto fare perché oggi le regole vanno rispettate ma delle volte ci vuole anche un po di buonsenso c'è la bilancia c'è la bilancia a me mi dicevano sulla destra c'hai il codice penale sulla sinistra c'hai la mano sul cuore comunque vale insomma se a scandici quanti anni è che manchi a scandici io manco da scandici dal 2002 no dal 2000 che me ne andai a gavinana poi andai alla dia e poi dalla dia sono venuto sull'idorale romano però comunque vale insomma fa piacere sapere come sapere che ci sono uomini donne e bottega i negozianti perché siccome quello che sta succedendo in questi ultimi tempi a scandici come ormai tu quasi tutti i giorni giornali la nazione riporta è diventato un far west io sento persone che continuamente mi fermano e mi dicono se c'era già natasio senti io tu sai io ho lasciato due figlie la ho lasciato il cuore oltre alle figlie nipoti con la gente quando vengo a trovarle andare in giro a prendersi caffè e vedere la gente che ti abbraccia ti saluta ancora è un onore perché chi semina bene raccoglie e poi soprattutto sei una persona io una cosa che io mi ricordo benissimo che te sei una persona che hai fatto rispettare le regole a tutti non esistevano esistevano amici degli amici bravo bravo questa è la frase importante se uno si comportava male gli amici degli amici io quella della festa dell'unità mi ricordo che mi facesti godere come una bestia perché mi avevi fatto presente una cosa e io alla richiesta di un cittadino che mi dice guarda si sta infrangendo la legge non posso dire oh dai lascia stare ma è vero già natasio che quando l'arma dei carabinieri è troppo operativa in una città l'amministrazione comunale si incazza come dire ma qui si va a finire sui giornali ma ti sto dicendo sono stato rimproverato che uscivano troppe notizie di cronaca nera sulla pagina di scanticci e come se c'è gente che fanno il loro lavoro e qualcuno richiama le persone ragazzi ma a che livelli siamo arrivati dai va bene di eri va bene già natasio sentiamo perdere e poi un avviso mio se me lo consente se qualcuno che ha ascoltato in divisa in borghese si è sentito leso assolutamente no perché per me l'arma dei carabinieri guai a chi me la tocca e chi mi tocca le forze dell'ordine perché cambia l'uniforme ma il fine è unico servire la gente e ci devono mettere in condizione di servire la gente comunque ti posso dire una cosa a proposito di questo sicuramente qualcuno con la divisa e dirà dentro di sé senti quel figlio di una mignotta del gheri è andato a intervistare guarda guido io ho fatto un libro che da cinque anni sta facendo scalpore l'hanno studiato perché non mi hanno denunciato io esalto la figura del maresciallo del paese e racconto pure le prepotenze di qualche superiore non mi sono mai piegato a nessuno quando sono il giusto ci sono tanti colleghi che quando vanno in concetto non in pensione attaccano la divisa ritornano al paesetto e non so perché io non sono grazie a tutti grazie a tutti